Eccolo qua, coach, una vittoria importante a fasi un po' alterne. Sì, abbiamo fatto male il secondo quarto a livello difensivo e offensivo e quindi lì ovviamente la Spezia ci ha recuperato. Poi il terzo e il quarto quarto abbiamo fatto vedere che siamo più forti perché la realtà delle cose è questa. E' certo che se non abbiamo l'atteggiamento e la voglia di far fatica, la Spezia che secondo me è una dignitosa squadra e gioca una buona palla a canestro, può mettere in difficoltà non solo noi, chiunque. Venezia comunque sta facendo un buon campionato fino a questo momento, non c'è da lamentarsi. No, 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 siamo contenti, dobbiamo proseguire, dobbiamo migliorare molto, dobbiamo come hai detto te prima togliere gli alti e bassi e quindi cercare di essere quelli secondo me dell'inizio e del terzo quarto quarto, soprattutto i primi dodici minuti. E la strada ovviamente è ancora lunga però il tempo c'è quindi miglioreremo sta roba. Una squadra attrezzata, ricordiamo che disputa anche l'Adriatica Cup. Sì, lì sta andando bene, l'Adriatica ci permette di cercare di tirare su il livello di tutte le giocatrici in modo da togliere i famosi alti e bassi che abbiamo un po' in campionato. Venivamo da una trasferta comunque impegnativa e lunga quindi sono contento dei due punti e dobbiamo lavorare molto ancora. Ok, grazie mille. Una vittoria importante diciamo col coach però un po' troppi alti e bassi. Sì, abbiamo avuto alti e bassi però l'importante era vincerla e portarla a casa perché questi punti per noi sono fondamentali soprattutto per anche le prossime partite che avremo. Quindi va bene così. Va bene, una squadra però diciamo come organico nettamente superiore che quando ha giocato ha fatto vedere buone cose. Quando la circolazione della palla con i tiri da tre sono stati micidiali. Sì, è vero, tra alti e bassi poi nel quarto quarto abbiamo trovato il nostro ritmo, ci siamo passate bene la palla e abbiamo dato uno scarto. Però ecco comunque anche Spezia ha fatto una buona partita. Un po' male nel quarto quarto, ha avuto un po' di alti e bassi però più intensa rispetto alle altre apparizioni. Non lo so se era più intensa, diciamo che bisognava affrontare con un po' più di testa, di concentrazione tecnica su questa partita. Giocavamo contro una squadra che forse non sta brillando come dovrebbe ma ha in campo oltre ai tre straniere cinque nazionali. Perché Dotto, Bagnara, Sandri, Formica e compagnia sono tutte nazionali. Per cui era una squadra che contrariamente a tante altre bisognava affrontare globalmente, nel senso che erano anche gli italiani che erano pericolosissimi. Ecco, noi siamo stati con la testa capaci di rimanere lì fino al quarto quarto. Il quarto quarto si è perso un po' la trebisondo, come dicono dalle mie parti, perché si è vista la possibilità di andare ad agguantare la partita sotto di dieci. C'era la possibilità di andarla a riagguantare. Abbiamo forzato qualcosa, ci è andata male. Andiamo via senza rimpianti, quello che bisognava fare l'abbiamo fatto.